perfetto adesso dato che mi fa piacere che siamo in 20 siete in 25 e tra l'altro ragazzi prima di iniziare sto lavorando un qualcosa anche col team a livello di tutto quello che è l'ecosistema della via dello smart money per portare un qualcosa di più accessibile alle persone e che aiuterà anche parecchio a un prezzo bassissimo veramente bassissimo che darà molti benefici infatti adesso nell'ultimo periodo ho passato tanto tempo nella pianificazione tante ore con gli altri ragazzi a vedere come muoverci al meglio e quindi presto ci saranno anche delle novità interessanti e succulenti quindi rimanete sempre sintonizzati per questa cosa qua allora adesso dobbiamo andare a vedere quello che oggi hanno combinato con la l'FOMC perché hanno tirato giù veramente tanto bene ok veramente tanto bene e quello che io sono andato a fare oggi anche con la community stavamo vedendo una possibile zona di sell con la cialuca che poi tra l'altro vediamo anche un'altra cosa su con indicatore che dall'altro adesso mi è venuto anche in mente abbiamo visto questa zona qua di possibile sell per andare a lavorare con la strategia quindi c'era questa zona dove avevamo formazione di liquidità candela istituzionale c'era altra liquidità però siccome io preferisco andare a valutare quella leggermente per sinistra avevo presa questa come candelina di manipolazione e se andiamo a vedere poi nel dettaglio qua dentro sulla zona nello specifico avevamo altra liquidità formata bilanciata con questa candelina sell che andava a formare l'ultima dominance per poi essere rotta se guardiamo attentamente dentro questo questo punto vediamo che il mercato continua a scendere in maniera unidirezionale e quindi quando c'è una cosa di questo tipo e e ti viene rotta anche il tuo ultimo punto di dominance dove vediamo che comunque il mercato ci dà un temporary profit su coloro che devono creare anche l'ultimo massimo questo è un dettaglio molto importante qui il prezzo cos'è che ha combinato cos'è che è successo d'avvo di vedere il prezzo che con le notizie con l'IFOMC andasse a fare questo per dopo rigirarsi quindi testare per poi andare giù anche perché nel mentre che il mercato si stava avvicinando all'orario dell'IFOMC alle 19 aveva lasciato liquidità nel senso aveva creato questo doppio minimo aveva lasciato di nuovo questa zona di immissione scoperta avevamo quest'altro doppio minimo e quindi l'idea che mi ero fatto io dato che altre volte era aveva funzionato questa cosa ho pensato ok sta continuamente andando a rialzo il mercato mi sta lasciando tutta la liquidità sotto e quindi molto probabilmente anzi no molto probabilmente nella mia testa ho pensato per forza dovremo andare a ribasso per forza le news spereranno giù questa era l'ipotesi che mi ero fatta perché avevo trovato una zona che rispettava la strategia quindi questa avevo lasciato tra l'altro anche liquidità poco sopra e poi mi avevo lasciato tutta la liquidità qua sotto però qua c'è c'è un problema che ovviamente la troppa sicurezza la maggior parte delle volte poi rischia di farci affondare è come se io avessi voluto attraversare il il pozzo o volessi magari il fiume ok senza però assicurarmi di mettere prima un piede per vedere quanto effettivamente fosse profondo il fiume io mi sono lanciato direttamente con tutti i due piedi e sono affondato questo è quello che capita per la maggior parte delle persone perché magari si pensa che avendo due tre conferme si è a posto tranquilli e allora dopo per forza andrà come come sperato perché l'abbiamo visto altre volte la cosa è che noi dobbiamo sempre resettarci e oltre al fatto di aver diciamo avuto troppa confidence in questo in questo setup c'è anche un'altra cosa che era successa che qua mi sono segnato oltre al fatto che qua c'era anche quest'altra zona qua di liquidità che mi aspettavo che potenzialmente potesse essere sbilanciato c'era anche quest'altro punto di last dominance che l'indicatore tra l'altro ci segnava e qui mi vorrei collegare anche velocemente a quello che è il discorso dell'indicatore e di come lo vado a implementare anche per magari le persone che non hanno ancora capito che magari l'hanno acquistato ma non riescono ancora a sfruttarlo appieno praticamente vedete questi pallini rossi qui il prezzo ci andava a segnare ogni singola volta la dominance quindi coloro che avevano la palla in mano e partiamo anche magari da qua sopra così vi faccio capire anche un po' di narrativa del prezzo di quello che ci va a dire effettivamente io ho voluto far creare questo indicatore basandolo principalmente sul time frame di m5 m15 perché sono quelli che a livello operativo con la strategia io mi trovo molto meglio soprattutto per trade scalp ma anche intraday ma soprattutto scalp se andiamo a vedere qua dentro cos'è che c'era c'era l'indicatore che ci segnava quest'ultimo punto di dominance che veniva assegnato con candela sell quindi come viene rispettata una strategia che abbiamo visto nella community privata con i vari percorsi e tutto quello che abbiamo fatto e qui andando a creare questo massimo più alto vediamo che questo è il nostro minimo che va a creare il massimo più alto ma ovviamente a mercato ci sono tanti massimi tanti minimi la domanda che qua sorge spontanea è allora quale prendo qual è quello che mi dà più vantaggio statistico che se prendo in considerazione come punto di riferimento allora una volta rotto poi riuscirò ad avere più probabilità di andare a fare profit e quindi qua entra in gioco il fattore dell'indicatore che andando a creare il massimo più alto dopo aver sbilanciato liquidità va a fare il cambio della dominance e tra quelli che erano i vari punti che siano formati una volta che avviene il cambio della dominance il mercato poi è molto tendente a seguire quella direzionalità infatti qua dentro mentre che poi hanno fatto il cambio dominance e hanno chiuso la struttura l'ultima struttura formata e tra l'altro perché anche ha acquistato l'ebook tutte queste cose qui sono state spiegate per bene nel dettaglio la struttura era stata chiusa qua dentro poi l'indicatore cosa che aveva fatto aveva fatto anche il test della candela istituzionale più a sinistra quindi qua vedendolo ancora meglio effettivamente il pattern è stato completato io mi sono focalizzato troppo su questa parte qua proprio perché ero convinto della mia idea e poi cosa è successo semplicemente qua dentro avevano lasciato quest'altra strutturina aperta perché se andiamo a vedere per filo e per segno quindi questi avevano il comando da qua sopra andiamo a creare questo massimo più alto poi da qui minimo più basso dato che qua dentro hanno testato la nostra zona di candela istituzionale fino al 50% tra l'altro ovviamente il mercato poi non ha più interesse a spingere magari più alto ma questo diventerà il nostro ultimo punto di riferimento dove da qui poi andando a creare il minimo più basso qui sono andati a lasciare la struttura scoperta cosa che poi sono andati a testare per poi continuare ad andare a ribasso e facendo questo test e completamento di questa schematica alla fine per chi lavora con con Wyckoff oddio io non sono un esperto metto le mani avanti però per quello che lo contestualizzo io un minimo dopo il minimo indispensabile questo lo prendo come un alla fine un break the ice un test della struttura per dopo continuare ad andare a ribasso e quello che è successo qua dentro sono andati semplicemente a fare una ridistribuzione e qua uno può dire eh però ci capisco perché continua ad andare a ribasso continua ad andare a ribasso e qui che interviene poi il fatto di andare a formare i pallini perché dopo che c'è stato lo sbilanciamento il prezzo va a creare questa mini struttura che era il minimo più basso e di nuovo da qua vediamo che abbiamo il test della nostra candela istituzionale segnata e quindi qua dentro andando a testare la zona diventerà poi successivamente dopo la creazione il minimo più basso questo come ultimo punto di dominance che a noi interessa e anche qui questa candela che rimane scoperta che non è stata testata se vediamo così il mercato ci va a dare una piccola reazione sull'apertura così al millimetro da un tempo rary profit e come abbiamo visto anche tantissime volte quando il prezzo ti va a dare un temporary profit per poi andare a bucare su una zona ad alta probabilità che noi andiamo a contestualizzare considerare come in questo caso la candela istituzionale cosa succede che noi lo andiamo a valutare dopo la rottura come poi effettivo cambio dominance perché la palla poi passa in mano a questi da questi qua creano il minimo più basso perfetto quando riescono a testare quindi questo qua diventerà liquidità non riescono non riescono non riescono poi finalmente da qui riescono quindi questa per noi cosa che diventerà il nostro ultimo punto di interesse perché ipoteticamente il prezzo da qui dove andare a creare il minimo più basso per andare a prendere anche la liquidità cosa che non ha fatto ha sbilanciato questi livelli ha sbilanciato tutta questa zona qua alla fine di liquidità dinamica in questo modo per dopo rigirarsi andare a rialzo bene facendo questo cambio di dominance ovviamente questo era un punto che era rimasto scoperto che non sono riusciti a testare perfetto e quindi già qui proprio per il fatto che vedendo questa narrativa la schematica era stata completata avevano chiuso siete d'accordo con me che diventa molto più chiaro saper contestualizzare dire ok lì non aveva senso effettivamente andare a provare un sell datemi un check in chat ragazzi se ci siete ed è chiaro finora se mi sono spiegato bene ah cazzo tanta roba tanta roba pulitissimo pulitissimissimissimissim ok perfetto ottimo ora continuando poi cosa è successo che ovviamente dopo che il mercato qui ha fatto la schematica ed è ripartito dopo il cambio dominance come abbiamo visto tante volte come c'è anche il video tra l'altro gratis sul canale youtube quando abbiamo schematica il mercato va a completarla e va a fare una ridistribuzione in questo caso però succede che la successiva molto probabilmente diventerà una schematica di accumulo per poi andare a rigirarsi e una volta che ha fatto l'accumulo ci aspettiamo che il mercato vada a fare un riaccumulo per continuare ulteriormente quindi uno due e poi ripartiamo uno due questo è quello che capita la maggior parte delle volte e quindi dopo che ci ha fatto praticamente questa schematica di distribuzione con la ridistribuzione qua dentro molto veloce cambio accumulo qua dentro hanno fatto il riaccumulo infatti io stavo attenzionando solo che non mi hanno testato la zona poco più sotto che io mi ero andato a segnare perché qua dentro si è rappresentato un'ottima opportunità insegniamo a vedere che il mercato poi andando a fare questo mini sbilanciamento prima delle notizie ovviamente ha dato una reazione fantastica se guardiamo qui nello specifico tanto per rivedere sempre il fatto che la strategia è questa ragazzi io mi continuerò a battere su questo su questo punto qui perché come ho fatto anche lì il discorso del percorso che tante persone continuano a cercare da una strategia all'altra sono sempre lì in difficoltà non riescono a effettivamente emergere in questa attività ragazzi non c'è niente almeno per la maggior parte di voi che so chi siete so da quanto lo fate non c'è bisogno di qualcosa in più non c'è bisogno di andare a ricercare chissà quale cosa aggiuntiva l'unica cosa che bisogna andare a fare è impuntarsi e imporsi di rispettare le regole è quella la cosa più difficile nella parte del trading perché imparare la parte tecnica andare a vedere la strategia che l'abbiamo vista tante di quelle volte e continueremo andarlo a vedere tante di quelle volte che ormai cioè il nostro subconscio ci dice basta so stufo cioè veramente è lì punto e basta però quello che ci va a mancare sempre è quella pazienza quella disciplina nel rispettare il piano che ci siamo preimpostati è quella la cosa che ti allontana è il gap tra te e i tuoi obiettivi la mancanza di disciplina nel rispettare il piano come per la palestra una persona non è a un livello fisico che gli piace però se poi andiamo a vedere che a livello fisico uno può dire eh però io mi alleno faccio la dieta faccio quello che devo fare però se dopo a livello pratico te magari vai a sgarrare due anche tre volte a settimana perché ti lasci andare e non rispetti il piano che il tuo coach ti ha dato e quello che è il programma che deve essere seguito ovviamente dopo sai bene che sei tu il problema sei tu che vai a sbagliare perché sai che se facendo quelle cose lì il coach che c'è la sua esperienza deve fare e tu non deve fare eh lì lì caschi lì caschi non riesci a resistere magari alla tentazione di fare una cosa che vada fuori dal tuo piano siamo molto abituati diciamo a provare l'ebbrezza a livello dopaminico abbiamo parlato anche tante altre volte eh noi siamo molto attratti dal eh ricercare in maniera anche abbastanza insistente visto che siamo drogati di dopamina ormai eh con la società che ci porta ad avere tutto velocemente soprattutto anche con i social ehm cerchiamo di metterci lì e dire io mi metto a grafico un po' palloso un po' noioso però aspetta se faccio questa cosa qua non è al 100% allineata con la strategia però potrebbe magari andare ecco però potrebbe andare una volta che tu ti metti magari a mercato e entri dentro sei già lì in attimo che inizi ad agitarti ecco quella sensazione lì di quando sei dentro del gambling praticamente ovviamente tu fatta una volta fatta due fatta tre diventerà un'abitudine e le abitudini governano la nostra vita e ovviamente dopo la governo sia in maniera positiva ma anche in maniera negativa quindi poi tu ti ritroverai di conseguenza a uscire molto più ripetutamente dal tuo piano a non rispettarlo e ovviamente andare a perdere sul lungo periodo ritrovandoti sempre sullo stesso identico punto se andiamo a vedere qua dentro a livello pratico cos'è che avevamo che poteva farci trovare una una bellissima fase di riaccumulo avevamo qua dentro zona di liquidità formata dal mercato avevamo anche quest'altra zona di liquidità che io mi ero segnato e se andiamo a vederla guarda così anche semplicemente facciamo tutto ragionamento step by step perché veramente ragazzi questo è cioè non è che c'è chissà qualcosa magica quello che vi ho passato è quello che effettivamente vi serve però se voi non siete in grado di regolare voi stessi in rispettare quello che io vi vado a insegnare che provo a insegnarvi ovviamente se ci pensate anche da sciocchi magari disperarsi lamentarsi eh ma io sto facendo tutto se tu facessi veramente tutto quello che è necessario fare fidati che avresti veramente i risultati che vorresti o no sì o sì ma con tutto nella vita perché veramente se tu ti mettessi lì a fare quelle cose che devono essere fatte allora sarebbe tutto completamente diverso e se andiamo a vedere qua dentro cos'è che c'era in zona di liquidità anche qui dentro avevamo altra zona di liquidità sbilanciata con questa candelina qua ovviamente io quando si tratta di prendere le due candeline cos'è che valuto valuto quella più a sinistra che mi va a fare lo sbilanciamento e quindi prendendo questa tra l'altro c'era anche lineata una candelina di immissione vediamo che ancora una volta ci si va a formare liquidità sbilanciata dominos la parte del prezzo qui ovviamente la rottura non c'è stata e la voi faccio vedere anche un'altra cosa che è molto interessante il prezzo dà esitazione e se dà esitazione come abbiamo visto prima su una zona di candelina istituzionale che ci va a sbilanciare anche questa liquidità quindi ce la andiamo a segnare così guarda qua abbiamo liquidità ovviamente questo essendo candelina istituzionale il mercato ci dà reazione quindi effettivamente qua sappiamo che questo è un nostro punto di dominance di alto interesse ma perché? perché il prezzo dà reazione la domanda che ci dobbiamo fare è ma perché dà reazione lì? cioè vuol dire che magari c'è un qualcosa dentro che li interessano che vogliono coprire? effettivamente la risposta poi la maggior parte delle volte sì infatti qui dentro cos'è che succede? il mercato poi finalmente riesce a fare la rottura questo non riesce ad andare a testare la nostra zona di interesse di candela istituzionale e cos'è che succede? qua dentro se non ti dà reazione la consideri di meno valore no allora li do comunque valore se la rompe subito ma molto spesso quando una zona la va a rompere immediatamente è perché sotto magari anche ti ha in frame leggermente più basso magari anche a secondi oppure vedi una zona M15 M30 e tu tradi a M1 magari a M1 la zona che su M5 M15 che ti sei segnato della buca direttamente hanno già fatto il cambio dominance ma molto prima ok quindi ovviamente se ti dà reazione quello è un ottimo segnale è un ottimo indizio del fatto che il prezzo ti sta per andare a fare ipoteticamente una schematica di tipo 2 e non bisogna mai farsi fregare dal fatto che una volta che ti dà reazione e magari ti testi internamente la zona di candela istituzionale te dici ah ok mi ha testato la zona e basta perché è lì che ovviamente ci vanno a giocare ok quindi qua dentro lasciando questo livello qui che non va a testare ci lascia anche l'imbalance la struttura tutto scoperto cos'è che abbiamo? l'interesse io personalmente qua mi ero messo l'alert lo stavo aspettando perché mi sarebbe piaciuto comprare da questa zona per muovermi fino a dove? fino a questa zona qua di altra liquidità quindi semplicemente fare questo questo trade questa era la mia aspettativa prima delle notizie perché molto spesso una delle cose che mi piace di più fare personalmente è che se so che c'è una zona di liquidità che deve essere testata zone scoperte e il mercato da qui sotto mi va a fare una schematica riaccumulo e poco prima della zona di nuovo riaccumula nuovamente sapendo che c'ho questo come punto di interesse allora lì sarà molto più propenso ad andarci sopra e questa era la situazione ma raga ma cioè ci ho fatto tante di quelle lezioni su sta cosa qua che veramente io ho perso il conto e quindi qua dentro sono andati poi a creare anche il doppio minimo la liquidità la zona non è stata testata qua semplicemente sono andati a sbilanciare hanno sbilanciato proprio di un minimo il doppio minimo e poi se ne sono andati via sono partiti quindi creata liquidità altra liquidità sbilanciata schematica di tipo 2 e poi hanno sparato ok sono andati a prendersi tutta la liquidità che hanno lasciato ma capite bene che qua dentro dopo che abbiamo fatto questi cambi dominance questa conferma abbiamo avuto anche chiaro quella che era la narrativa da qua dentro ovviamente il fatto di sperare che il prezzo potesse scendere andare a prendere la zona di liquidità era veramente cioè era proprio sbagliato ma più che altro ci sta a sbagliare su quello che è dal punto di vista tecnico ok può capitare però quello che è il problema principale è quando noi sbagliamo perché ci impuntiamo ogni singola volta oppure molto spesso sull'essere troppo decisi sulla nostra idea meglio avere vagamente ragione che chiaramente torto questo dice sempre Warren Buffett cioè una delle frasi più belle che ho sentito sempre questa meglio avere vagamente ragione che chiaramente torto quindi sempre mettere in discussione cercare guardare stare attenti perché poi qua dentro mentre che il mercato aveva lasciato tutta la liquidità che ovviamente era molto goloso e uno può dire c'è il candlestick c'è la struttura c'è tutto scoperto che qua hanno tirato una bella bomba rialzista che poi hanno dato reazione e tra l'altro come ho messo anche nelle storie qua dentro quello a cui sto lavorando della della strategia automatizzata mia qua ha fatto un super trade e infatti si è preso lo short ed è andato anche take profit prendendo in considerazione cosa prendendo in considerazione questo livello qui di candela istituzionale a 30 minuti e se andiamo a vedere sulla zona che c'era qua dentro il mercato aveva formato c'era stato il cambio dominance se vediamo qui dentro che non si vede M30 ma su M5 si quindi sempre il fatto di giocare in varità in frame ma qui avevano lasciato scoperto cosa avevano lasciato scoperto questa zona qui di emissione liquida e poi avevamo anche la candela istituzionale che al 50% non era stata testata e quindi qua dentro noi ovviamente ci potevamo aspettare un ritorno quindi quello lì faceva la calamita e com'è che facciamo a capire che era veramente una calamita importante perché ha dato un rifiuto di questo tipo il mercato ha ritracciato ha chiuso struttura e poi ha continuato a spingere esplodere rialzo per andare a ricercare tutta l'altra liquidità che aveva lasciato qua sopra perché qua si vede che comunque di liquidità ce n'è ok questa dinamica mi verrebbe anche di andare a guardare un attimo a livello di stagionalità solo che dovrebbe essere abbastanza particolare tipo marzo adesso siamo il 20 potremmo vedere quest'ultimo periodo qua dove c'è ribasso per il dollaro quindi questa fase e quindi per il dollaro stagliano e per l'euro comunque ci poteva aspettare rialzo però c'è un'altra cosa che mi hanno fatto notare anche sul gruppo molto molto interessante se andiamo a vedere qua dentro è che il prezzo facciamo così vediamo tutti i disegni il prezzo da qua dentro dopo che ha completato questa schematica e se ne è partito veramente bene a ribasso qui è come se ci avesse fatto una prima schematica ma poi qui su quest'altro livello ci ha fatto una seconda schematica ma com'è che facciamo capire che effettivamente questa è stata un'altra schematica perché dobbiamo vedere cosa ha scaturito questo movimento cioè vediamo che effettivamente qua sono andati a creare un minimo più basso quindi hanno compresso e sono riesplosi e tra l'altro prima di andare giù a ribasso hanno sbilanciato anche tutta la liquidità quindi sbilanciamento la liquidità testa e chiusura della struttura per poi ripartire e quindi dopo che fanno una schematica ne fanno una distribuzione una ridistribuzione e quando c'è una e dopo l'altra cos'è che succede? esatto avviene l'accumulo ed è sempre questo che si ripercuote più che altro anche qui c'è stata da parte mia lo ammetto tranquillamente superficialità nel mettermi ad analizzare a 360 gradi data dalla stanchezza perché effettivamente ragazzi dormire poco per questo è importante essere sempre la mente lucida infatti qua ho sbagliato il dormire poco il bere anche un po' ovviamente quella roba di ti altera a livello emotivo anche io sono un essere umano quindi ovviamente ci tengo a condividere con voi queste cose qui che sia da comunque anche da avvertimento comunque d'aiuto successivamente quando magari voi vi trovate in una stessa condizione ok andiamo un attimo io sono arrivato alla conclusione che se stai realmente facendo tutto lo necessario invece di dire probabilmente ti stai preoccupando di non fare ancora abbastanza anche lì sì effettivamente sì cioè bisognerebbe poi anche tanto concentrarsi sul fare e basta senza pensare al resto perché più noi ci concentriamo sul dovrei fare qua la togliamo tempo all'azione all'agire e quindi mi raccomando dobbiamo lavorare tanto su proprio agire fare dedicare il tempo necessario a fare solo il lavoro perché alla fine l'unica cosa che conta alla fine della fiera cos'è? è il risultato finale ma il risultato finale per avere il massimo e quello che può essere soltanto il meglio ovviamente lo vai ad ottenere agendo al meglio delle tue capacità miglior risultato? vuoi essere il migliore in qualsiasi attività disciplina? tu devi lavorare sempre al 100% anzi il 110% fare quel passo in più quel tocco in più ok? adesso qua stanno continuando a spingere ci hanno fatto la schematica quindi ragazzi adesso mi viene a farvi una domanda cos'è che ci potremmo aspettare? esatto 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 un riaccumulo ed è effettivamente cosa? la cosa più semplice tra virgolette ma cos'è che ci vuole ragazzi anche ditemelo ancora cos'è che dobbiamo fare? cioè io voglio voglio fare queste domande voglio farvi ragionare e continuo a buttarvi lì queste cose qui perché effettivamente magari uno può dire ma è una cosa scontata è quella qua ma aspetta se io te lo dico e continuo a cercare di riprogrammarti la testa nel fare un certo ragionamento tu non dovresti neanche dire magari domandarti e dire però ancora 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 quella roba lì perché se no non staresti qui ad ascoltare la zoom non staresti ad ascoltare questa roba qui ma staresti facendo la tua attività per gli affari tuoi e avresti già i risultati che vorresti ok esatto ci vuole pazienza cioè quello che noi dobbiamo aspettare qua quello che dobbiamo fare dato che comunque il mercato è partito è semplicemente dire ok io ho preso stop magari qua sotto perché mi sono perso non ho analizzato come si deve il mercato non ho dedicato il giusto tempo bene la giusta attenzione cosa faccio? molto semplicemente metto l'anima in pace perché so che comunque dopo molto probabilmente cioè non è sicuro questa è la cosa importante infatti io sono sempre molto attento come parlo a come parlo perché qui molto probabilmente si può presentare di fronte un riaccumulo da parte del mercato per continuare a spingere per andare a prendere ipoteticamente quelle che potrebbero essere zone di imbalance e altre zone che sono rimaste scoperte nel mentre che continuavano a spingere per andare a ribasso magari questa zona qua di ritracciamento che testa la zona prima di andare giù qua non c'è stato il test quindi quello potrebbe essere preso come punto di riferimento e quello che solitamente io poi vado anche a fare molto molto semplicemente è quello di scavare tra i vari time frame perché solo così riesco a estrapolare i dati di cui ho veramente bisogno e la domanda che devi fare è ma di quali dati ho bisogno? Quali sono quei punti che a me interessano e mi servono la liquidità statica liquidità dinamica potrebbe esserci un candlestick potrebbe esserci un imbalance potrebbe esserci qualsiasi altra cosa ok? però qua dentro dobbiamo vedere c'è la struttura e abbiamo anche questa emissione liquida scoperta perché vedete che questo rifiuto sbilancia il precedente e poi se ne va giù a ribasso ok? quindi qua dentro con questa cosa qua abbiamo anche quest'altra zona di inefficienza e possiamo vedere che comunque il mercato finché non arriva là sopra poi potrebbe anche fermarsi prima e rigirarsi ci dà la possibilità di avere un punto di appoggio capite? e questa è una cosa anche molto molto importante che dobbiamo sempre ricordarci cioè ok che c'è magari la schematica ok che c'è il pattern che si potrebbe presentare però se noi non abbiamo un punto di profit a cui attingere una zona dove ad alta probabilità possiamo vedere che comunque c'è volontà da parte del mercato di andare a testare ovviamente lì diventa più difficile cioè le probabilità che si vada a verificare un esito positivo del nostro trade vanno a diminuire ovvio che magari tu non conosci determinati concetti non conosci una determinata schematica rispetto a un'altra o un tipo di liquidità rispetto a un'altra e magari dici ok non c'è e quindi lasci lo stesso stare magari il setup non va a prendere però la maggior parte delle volte con quello che vi vado a portare io con quello che vi vado a dare io community non community quello che è comunque questo ci aiuta veramente tanto e vista anche qui dentro quindi questo è quello che noi possiamo andare a vedere e aspettarci magari per audio sd così meno anche nei prossimi giorni magari anche domani probabilmente già da stasera naturalmente vediamo se da qui dentro inizia a comprimere e poi magari forse anche domani mattina in London non serve male sarebbe molto molto interessante se su un M5 ci va a formare una bella dominance va a sbilanciare parte di basso pulisce tutto fanno vedere il cambio ci danno un bel test della candelina istituzionale la prendiamo molto diciamo non saprei neanche come definirlo cioè proprio alla buona ok e se devo anche entrare su una schematica di questo tipo M5 M15 che sta con lo stop loss qua sotto che sono 6 7 8 10 pips quel che è e magari di solito mi sono abituato con 1 2 non me ne frega niente perché se poi so che posso andare fino qua sopra mi faccio il mio trade me ne sto bello che tranquillo punto fine e so che comunque qua vado a seguire la direzionalità seguo comunque quello che è il fattore della stagionalità anche che c'è la favore e anche che c'è la liquidità a favore questo è quello che devo andare a fare questo è quello che devo andare a seguire questo è quello che devo andare a fare tutte le volte tutti i giorni tutte quelle che sono magari le situazioni in cui il mercato mi presenta un'opportunità valuto prendo con le pinze lo guardo da un punto di vista esterno comunque anche cerco di fare un passo indietro perché troppe volte siamo troppo nel vivo dell'azione troppo coinvolti in un qualcosa ci facciamo un'idea di quella di quella cosa la vediamo in un certo modo e come vediamo una cosa in un certo modo poi molto spesso per noi diventa un fattore limitante è come se un pensiero prendesse forma e quando una cosa prende forma può essere ingombrante non sempre può essere un qualcosa di positivo è vero che noi facciamo una visualizzazione di tutte queste cose qui per riprogrammarci ed è ottima come cosa però molto spesso quando si tratta magari di agire proprio su base giornaliera quella cosa quel pensiero diventa un macigno un qualcosa che diventa poi un fardello ok bisogna essere sempre molto versatili e diciamo si versatili a livello mentale andiamo a livello daily anche guardate andiamo a darci anche un occhio a livello daily a livello daily ci dice anche una bella cosettina aspetta vediamo che qua ok interessante interessante perché effettivamente qui abbiamo avuto il cambio dominance a livello daily impulso ritracciamento di nuovo impulso questa è la fase di ritracciamento e si vede adesso molto 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 probabilmente il mercato può ancora spingere siamo ritornati a testare zona di immissione sul daily per dopo andare su a rialzo e ipoteticamente almeno andare fino a questi massimi qui se non creare un massimo più alto sarebbe molto interessante vedere una cosa di questo tipo poi potrebbe anche essere che magari il mercato non riesce a creare un massimo più alto però fino a questi uno due tre decrescenti potrebbe starci solitamente poi anche qua il mercato quando spinge che magari prende la direzionalità di solito che di solito si può andare a fare tre barra quattro giorni di fila a rialzo oppure a ribasso a seconda di quello che è il trend e una volta che ha fatto quello poi avviene quello che è la fase di inversione o comunque la fase di ritracciamento quindi qua anche a livello daily a livello di struttura macro ci dice benino comunque anche quella che è la possibilità di quello che potrebbe accadere anche se ci ha lasciato tanta liquidità però ovviamente c'è sempre anche il discorso che se mi lascia tanta liquidità non deve per forza andarsela a prendere anche questa è una cosa con la quale sto combattendo io stesso ancora adesso perché magari lo vedo a mercato c'è un'opportunità perfetta e me la lascio perdere perché c'è liquidità ed è qui che entra in gioco il fatto del ok io ho un pensiero di liquidità molte volte mi aiuta però tante altre diventa un fardello magari quelle volte lì c'è dentro magari un'opportunità che mi farebbe fare bene rispetto magari a altre poche volte che magari si prende stop andando contro liquidità e a favore di direzionalità ok quindi questo è per quanto riguarda Audi usd ragazzi datemi un check se ci siete se è tutto chiaro e cristallino e se vi sta anche piacendo comunque la lezione e ci siamo e siamo sul pezzo ok super super che poi vedete anche voi che comunque c'è sembra un qualcosina che si va ad aggiungere si va a costruire capite per questo è importante collegarsi essere presenti perché magari uno può dire è però sempre il stesso format è sempre la stessa cosa magari un market review magari è semplicemente anche un una solita correzione stop loss ecco tutta questa cosa qua però se voi ci pensate magari voi vi siete connessi stavolta qua perché ho detto vabbè vado ad ascoltare la lezione però avete magari colto un qualcosa in più oppure io ho detto un qualcosa in più che è legato a questo contesto ti fa fare quel click mentale che ti fa dire ah aspetta mi ha dato un qualcosa su cui riflettere su cui pensare e quindi lo provo ad andare ad applicare e poi vi dico magari migliori anche semplicemente di un 0,1% va benissimo capite ogni singola zoom ogni singola cosa vi porta un valore aggiunto un qualcosa di qualitativo che ti permette di migliorare ed è per questo che bisogna ogni giorno mettersi sotto e fare poi ovvio si stacca anche weekend si sta però insomma fa parte del gioco io non ho capito unica cosa su Audi da dove si è iniziato a segnarti la dominance dal massimo in alto hai detto che hai testato anche il 50% della candela estizione al buy ma aveva fatto rottura ah allora aspetta guardiamo qua da qua sopra dici Yerick guarda qua attentamente ultima dominance segnata dall'indicatore massimo più alto rottura ci sei e poi qua subito dopo che hanno fatto la rottura ritracciamento test che poi qui hanno chiuso anche con forza sul soprallivello e sono andati poi a fare la fase di ribasso non è quello successivo il test allora qua hanno già rotto questo perché l'ultima dominance deve essere rotta una volta che viene fatta l'ultima dominance che viene rotta poi si sblocca il test della candela istituzionale questo ok perfetto per quanto riguarda Marco io qua dentro vista così questo si che va a testare alla fine la nostra zona di candela istituzionale non va a prendere il 50% però io qua lo prenderei più sul contestualizzare vedere la struttura che viene chiusa poi non è neanche sbagliato dire ok mi va a prendere semplicemente l'apertura della candela istituzionale e mi rifiuta bene ok però vista così nell'immediato è una schematica di tipo 1 dove c'è rottura da dominos test immediato e poi di partenza per andare giù a ribasso ok ora andiamo a vedere anche un'altra cosetta qua su gj e qua c'era un'altra cosa qua molto interessante che avevamo combinato poco prima delle news anche qui dentro che adesso vi spiego un'altra cosetta che sta qua la taglierò dalla parte della cioè fino quello che vi ho portato qui comunque la carico così però quest'ultima parte qua è per per quelli che alla fine sono sono dentro quindi adesso interromperò anche la registrazione quindi almeno voi potete prendere il valore aggiuntivo però la cosa è che ovviamente arrivati fino a questo punto ovviamente tutte le persone vi invito quando vi riguardate anche la registrata a comunque lasciare like al video a supportare il canale ovviamente più più vedo che c'è crescita interesse ovviamente più a me fa piacere più sono spronato andare avanti con la condivisione dei contenuti e ovviamente poi settimana prossima andremo a fare anche la correzione stop loss quindi per tutte le persone che si vedono questa registrata qua ci sono i link del gruppo telegram di tutte le chiamate vengono mandate lì mi raccomando sfruttate anche la prossima chiamata che ci sarà ok